Purtroppo non c'è free pool nel banner di Rufus, però il ticket lo buttiamo lo stesso, magari succede un miracolino. Eccola qua, BT di Rufus, bene ragazzi abbiamo finito, a posto ce ne possiamo andare. Allora facciamo la multi, facciamo intanto la multi qua. Orba azzurra, quindi si skippa benissimo. Niente, neanche un'LD, va bene, va benissimo. Dovrei mettere una musica a tema in realtà per portarmi fortuna, ma ogni volta che l'ho fatto non mi è andata benissimo, quindi preferirei magari non fare musiche particolari. Allora la orb è azzurra ma c'è stato un mega loading pazzesco, vabbè probabilmente è perché mi sono uscite più armi, mi sono uscite tipo 15 e 35, quindi il gioco le ha caricate. Non credo che ci sia qualcosa di mezzo, non credo che ci sia qualcosa di mezzo, sarebbe un po' troppo scandaloso in realtà. Io da un lato ci spero ma devo anche fare, devo anche mettermi a confronto con la realtà. Esatto, infatti era l'arma di Rufus. Ok, la 35 e abbiamo sbloccato il personaggio di Rufus, quindi rank up, ovviamente fino al 70 automaticamente. Nooo. Ok. Secondo Ticket Viola. Dai, la B, ti vorrei soltanto la B, ma donna Orbaz, proprio mi sta punendo malissimo, io già lo so come mi finisce qua, io lo so. Rufus è la mia nemesi, lo dovrei schippare da come si comporta, lo dovrei schippare, però sono troppo fanboy per farlo. Sono troppo fanboy per fare una roba del genere. Ok, Orbo Dorata che potrebbe voler sviluppare tutto e niente, però vabbè. Vabbè, Spiedina l'ho schippata per motivi perché non mi interessava realmente. Il Rufus è diverso. Oh, buona la X. Doppia X. Un'altra 35. E un'altra 35. Va bene, ok. Quindi già, 335 e 2X. Ci siamo. Allora, io butto qualche Ticket per scaldare l'ambiente. Facciamo un po' di... Riscaldiamo un po' l'ambiente. Vediamo se magari... 15 di Nulu, così. Vediamo se magari riscaldando l'ambiente riusciamo... A provocare il gioco. Mmm, ok. Niente, Orba Azzurra. Ne butto un paio, dai. Un paio di Ticket li butto comunque. Tanto sono cappato, quindi me ne frega. Buttiamoli un paio. Ci sono anche quelli delle Co-op, quindi... Qui non c'è nulla. Dai, dai. Su, su, su. Rufus. Io lo so che sei lì che mi stai ascoltando. Io lo so che ci sei. Io lo so che ci sei. Attenzione, un piccolo... Tra l'altro è bello lungo il capitolo. Porca miseria. Va bene, altra 35. Oh, LD. Buona. LD di Roa totalmente a caso. Vabbè. Oh, buona... Buona l'LD di Rufus. Così. Quindi abbiamo già la 35, la X... E l'LD. LD. LD X 35. Ok, quindi tecnicamente mi mancherebbero 15 e tutte le altre. Però vabbè, ci sta. Ci sta. No, non ne ho token. Non so neanche se ci arriverei effettivamente, ma credo di no. Credo di arrivare a... Eccola qua, l'abbiamo trovata. Credo... No, non ci arrivo con i token. Cioè, non ce li ho i token. E poi, per il momento, preferisco utilizzare le risorse piuttosto che i token. I token magari li utilizzo quando appunto non ho più risorse. Eh, ma neanche un FR così tipo... Random? Così, giusto per dirmi... Non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo, Rufus. Ti stai comportando male, eh? Ti stai comportando troppo male, qua, con la capo indiana. Allora, cerchiamo di... Cerchiamo di... Di concentrarci, eh. Ok. Orb... Orb dorata. Ok, vabbè, non vuol dire nulla. È vero, spendo i miliardi sul gioco e non ho i token. Li potrei shoppare, però... Però non voglio shopparli. Bello! Grazie, Lulu. E niente, dobbiamo mettere mani ai fondi scirra. Guarda, da quanto è che non pullavo con le gemme? Cioè, il gioco neanche ci è abituato più che pullo con le gemme. Sta caricando non so cosa. Dice, ma che sta facendo? Ecco qua. Eccoci qua. Orb viola. Però con tutto sto caricamento penso che sia quella di Rufus. Se mi dà FR e BT con una sola multi... Potrei esplodere, letteralmente. Ma non succederà mai, ovviamente. Bene, 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 bene. E intanto l'FR ce l'abbiamo già a casuccia. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Dai, se restiamo sopra le 900.000... Se restiamo sopra le 900.000 sarebbe stato bello. Però, purtroppo non è così. Purtroppo non è così. Dai! No! Che palle st'inventata! Siete pazzi! Non posso vendere tutto il mio equipaggiamento. Ho accumulato in questi anni di gioco. Niente, orbazzurra skip! Ragazzi, ve l'ho detto. Qua andiamo a P.T. O forse no. Vediamo. Quando ci sono i preferiti, si va a P.T. Sappiai, è una regola questa, ovviamente. È una regola non scritta. Quindi, io già sono pronto mentalmente. Anche per riequilibrare il karma. Però, se potessi risparmiare... Va bene. 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 A quanto siamo arrivati? 140. Va benissimo. Va benissimo. Non potevo chiedere di meglio. Non potevo chiedere di meglio. Non potevo chiedere di meglio. Va benissimo. Non potevo chiedere di meglio. Certo, c'è anche la FR di Irvine che mi manca. Potrei effettivamente prenderla, magari... Però, ormai, di pullare, sinceramente, non me ne frega più niente. Anche buttare i ticket, sinceramente, non mi interessa nulla. Non mi interessa proprio niente. No, ma neanche nell'altro banner. Allora, nell'altro banner, effettivamente, c'è anche la VT di Irvine. Ma posso buttare qualche ticket così, giusto per la goliardia di buttare qualche ticket. Perché sono felice di aver trovato Rufus. Ma... Per il resto... Buttiamolo qualche ticket, dai. Qualche ticket lo butto anche su Irvine. Giusto per rendere felici tutti i fan di Final Fantasy VIII. Anche se tanto poi Irvine non lo utilizzerò mai, praticamente. Visto che mi è andata abbastanza bene con Rufus, direi che possiamo permettercelo. Rispetto alla spesa che avevo preventivato, mi è andata molto meglio del previsto. Niente. Ovviamente più di 100 ticket non ne lancio, non me ne frega un cazzo. È giusto così per festeggiare, fare un po' di goliardia per i ludopatici che mi gufano. Per chi mi gufa. Sono rimasto con una buona cifra in realtà. Perché grazie al capitolo comunque ritorno sopra le 900.000. Quindi... Siamo ancora a road to un milione. No, l'LD già ce l'ho di Irvine. Gioco, mi devi dare se è possibile o la FR o BTFR. Scegli. Scegli. O FR o BTFR. Come preferisci. No. Mi dai, tutte orb cestino azzurre. Vabbè, perché Irvine è un cestino. Quindi giustamente orb cestino sul personaggio cestino. Madonna mia, che brutte multi. Che brutte multi, mamma mia. Sì. Multi cestino sul personaggio cestino. È una regola. È proprio una regola scritta ufficiale del gioco. Per forza. È così. Infatti le multi di Rufus erano molto più belle. Ecco qua. Bello. Così mi posso... No. Mi so. Mi so. Va bene. Niente. Dai. Ci abbiamo provato. Irvine. È stato un piacere. Io ti volevo pullare. Anche con la scusa magari di poterti pullare. Tu. Non te ne frega un cazzo. Niente. Arrivederci. Grazie. Come l'ho detto. L'importante è che Rufus c'è. Rufus c'è. Rufus c'è.